Ciao a tutti amici di TuttoMotoriWeb, bentornati con una nuova puntata, una nostra intervista esclusiva, sono Giovanni Messio e presento un grande amico dal Giappone, un italiano che si è fatto grande in Giappone, Ronny Quintarelli, ciao Ronny, buongiorno. Ciao Giovanni, buongiorno. E come ringraziarlo per questa sua presenza, quattro titoli per lui nel Super GT, il campionato top probabilmente in Giappone con la Nissan, ormai un alfiere della Nissan, quindi veramente un pilota famosissimo nel paese del sollevante, e andiamo subito a chiedere a Ronny come è andata questa stagione 2021 con la Nissan nel Super GT e come sta vivendo questa sua esperienza che veramente ci rende orgogliosi di averlo nel suo paese, dove il Super GT è un campionato veramente entusiasmante, seguitissimo, e vediamo se ce lo conferma anche lui, perché io seguo le gare e vedo sempre tantissimo pubblico, tanta gente entusiasta di vedersi queste competizioni a ruote coperte. Ma prima di tutto la stagione è appena terminata, 2021, ci ha visto in lotta per il titolo fino all'ultima parte della stagione, siamo riusciti a vincere una gara sul circuito di Suzuka, e poi nel momento clou dove c'era da lottare noi come Nissan contro Honda e Toyota, ci è mancata un po' di competitività e non siamo riusciti a sferrare l'attacco per portare a casa il titolo. Nel Super GT, essendoci nella classe 500, la lotta tra questi tre colossi costruttori giapponesi, in modo ufficiale, anche i piloti sono nella classe 500, tutti i piloti professionisti, tutto si gioca nei dettagli, e niente, quindi se tutto non si ammalga perfettamente, non è facile portare a casa e poi lottare per il titolo, anche perché insomma come tutti i campionati ne vince uno solo, una macchina solo, quindi niente, comunque è stata una stagione positiva. Poi come dicevi, Super GT, come hai notato bene anche te, io ho potuto ammirarlo nei miei primi anni di Giappone, sono arrivato in Giappone io nel 2003, agli inizi correvo in Formula 3, come tutti i ragazzi e i giovani che arrivano dal kart, quando sei nel kart, io ho vissuto gli anni d'oro del go kart, quando ero bambino guardavo la Formula 1, per noi tutti l'obiettivo era cercare di arrivare in Formula 1, io ho avuto la possibilità di venire qua in Giappone a correre in Formula 3, come pilota professionista già agli inizi, e guardavo sia la Formula Nippon, che era la categoria di punta per le formule in quei tempi, e il Super GT, ho scoperto poi il Super GT, dopo essere arrivato qua in televisione, guardando le gare in diretta, e già da allora avevo visto questo afflusso massiccio di pubblico ai circuiti, che mi ha veramente fatto impressionare, poi nel 2008, diventando poi pilota Nissan, sono entrato in questa categoria e non l'ho più lasciata. Ecco, tu ci hai menzionato appunto anche la Formula Nippon, che adesso si chiama Super Formula, quindi il Super GT e la Super Formula, che sono le due categorie, ruote coperte e scoperte principali, e ricordo anche nel 2017, se non sbaglio, che anche Gasly partecipò alla Super Formula, adesso pilota dell'Alfa Tauri, ecco, per un pilota che magari in Europa, o comunque conclude una carriera in Formula 2, è un po' in difficoltà in un periodo in cui non trova la sua strada, quanto può essere importante andare in Giappone? Secondo te queste due categorie, quanto possono aiutare la vita di un pilota? o magari diventando un punto di riferimento come sei stato tu, oppure per rilanciarsi? Quanto è importante il Giappone? Quanta visibilità può dare a un pilota che vuole scoprire il suo talento, vuole farlo vedere? Ma adesso te hai parlato di Super Formula negli ultimi anni, che sei ancora giovane, e io ricordo quando sono venuto qua ai primi anni, che poi mi spiegavano, leggevo riviste, leggevo, me le leggevano, perché non era facile a suo tempo leggere il giapponese, e vedevo magari palmaresse delle vittorie, a suo tempo si chiamava Formula 3000 giapponese, prima che arrivavo qua io, inizi anni 90, e ci sono stati tanti piloti che come ho fatto anch'io, che magari correvano e avevano iniziato nelle Formula in Europa, poi in quei tempi il Giappone era l'anno della bolla economica, fine anni 80, anni inizi 90, che qua era facile per un pilota competitivo europeo riuscire a venire qua e trovare un sedile da correre come pilota professionista, erano già, erano anche pagate, mi dicevano, molto bene a suo tempo. Ricordo tanti piloti che poi dall'Europa erano venuti qua a correre in Formula 3000, te secondo me non ti ricordi, io quando ero bambino che guardavo ai inizi anni 90 la Formula 1, mi ricordo anche che c'era, per dirti, Ed Irvine, che aveva fatto diverse stagioni qua in Formula 3000, aveva debuttato lì proprio sulla Jordan, a Suzuka, credo che era nel 93, secondo me, e conoscendo benissimo la pista aveva impressionato subito, diciamo. E il bello del Giappone è che non guardano tanto loro, sai, l'estetica, soprattutto secondo me in quegli anni, ma anche loro come mentalità di avere il pit bello, di avere il motorhome dietro nel paddock, loro si concentrano tutto sulla cosa principale, sulla macchina, quindi per un pilota qua, adesso, diciamo negli ultimi anni, è un po' cambiato anche qua, però fino a qualche anno fa eri sempre in macchina, test, 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 quindi avevi la possibilità di girare tantissimo, grandissimo allenamento, essendo sempre in pista, poi lavorando proprio direttamente in maniera proprio pura con il costruttore, un'esperienza incredibile, diciamo, anche perché sai, sai, quando in Giappone, quando vai a fare un test, e magari metti in pista una macchina nuova, non è che c'hai solo un ingegnere di pista dietro, c'è dietro mezza azienda, che sono tutti con gli occhi addosso, se in Italia, da noi in Europa, gli servono 20 persone a seguire, diciamo, un progetto nuovo, quando vai a fare un test, qua ce n'hai minimo 50 dietro, che, quindi per un pilota è proprio il motosport puro, diciamo, come era magari da noi negli anni, sai, secondo me, vedendo anche, seguendo magari anche, non so se ti ricordi, Rush, il film che hanno fatto gli anni 80, soprattutto concentrato sulla macchina, diciamo, quindi per un pilota straniero, il passaggio a Giappone è veramente un'esperienza unica. Assolutamente, quindi ci parli un po' di un motosport romantico, quello che, secondo me, stiamo un po' perdendo, infatti, me l'hai un po' anticipata, ma una delle domande che volevo porti era il, come sta evolvendo, secondo te, il motosport? Stiamo andando verso una, diciamo, quasi un'elettrificazione del motosport, sta cambiando un po' tutto la Formula 1, addirittura nel 2026 farà delle power use, sì, un po' più semplificate, ma si andrà sempre più verso il green. Voi nel Super GT come siete messi da questo punto di vista? Che tipo di motori usate? Userete? Qual è un po' la... Andrete anche voi verso il green? O come mi hai detto tu, rimarrete sempre fedeli al motorsport, quello puro, il motore a scoppio? Quello che tanto ci piace anche a livello di motore, perché, ragazzi, vedete le gare del Super GT anche a livello di sound, queste macchine sono incredibili. Ma noi è dal 2014, da quando era stato fatto l'accordo su Super GT, poi il vecchio DTM, che si era passati ai motori due litri turbo, motori con quattro cilindri in linea a iniezione diretta, che erogano quasi 700 cavalli, sono poi i motori, sempre gli stessi motori, quasi della... Per Honda e Toyota che corrono anche in Formula Nippo sono gli stessi motori della Formula Nippo, proprio. Sul Super GT Classic 500 non c'è niente, diciamo, che deriva dalla macchina di serie, diciamo, da una GT3, anche da corsa, è tutta rifatta da zero, un prototipo, diciamo. E fino al 2023, quindi per questa nuova stagione e quella prossima, si andrà avanti con questi regolamenti. E dal 2024 c'è già... Adesso stanno già discutendo e hanno già messo, diciamo, sul piatto dei regolamenti nuovi, perché logicamente noi che siamo in pista, o anche gli ingegneri, gli ingegneri da parte è motorsport, tutti vorrebbero andare avanti come quel motorsport che quando arrivi in pista senti, diciamo, l'odore della benzina, anche se fuma un po' il motore, va benissimo. Per gli ingegneri, per crescere poi al massimo. Però c'è da fare i conti che quando, come noi qua, che corri in maniera ufficiale, anche dietro il budget deriva dalla casa costruttrice. E quindi anche loro, se devono anche un po' capire come va il mercato dell'auto, e visto che adesso anche qua in Giappone si sta andando sull'elettrico, come vedo che sta succedendo, che lì si sta avviando lì in Europa, sembra che non si partirà dal 2024 con l'elettrico perché sarebbe impossibile poi andare sui circuiti a fare le gare e poi il pubblico, secondo me, dopo non verrà più nessuno alla pista. Fare qualcosa, dicevano, di alimentazione, da passare da benzina con qualcosa di più green, diciamo, adesso stanno cercando di... Forse è un ibrido, quindi. ...di nuovi carburanti, come penso che sia anche qualcosa simile anche la Formula 1, diciamo. Ah, ok, qualche power unit, dunque, si andrà verso... Sì, per questo è più diverso, sì. Anche per cercare di andare avanti quel motorsport vero da tirare in lungo il più possibile, capito, senza passare all'elettrico immediatamente, perché sarebbe... Come penso che vedete anche voi, se corri su circuiti cittadini riesci ancora ad avere dello spettacolo, ma se vai su circuiti poi diventa impossibile. Quindi si sta cercando di trovare una soluzione, come stanno cercando di fare anche in Formula 1, per cercare di andare avanti quel motorsport vero e per giustificare i budget delle case automobilistiche, per giustificarlo loro, diciamo, che abbia un senso per loro a investire nelle corse. Certo, certo. Infatti ci hai toccato un aspetto anche molto interessante, che è quello del Super GT, delle case ufficiali, che sono impegnato, cioè Toyota, Honda, Latua, Nissan, che credo stanzino dei budget farà oltre, per questi campionati, perché sono veramente di altissimo livello. Ad esempio c'è la Honda, che ha deciso di abbandonare la Formula 1. Ricordiamo i nostri appassionati, la Red Bull continuerà con i motori Honda, ma non ci sarà più l'impegno ufficiale. I motori sono stati congelati, quindi saranno quelli, diciamo, del prossimo anno, che arriveranno fino al 2025. Ecco, tu di questo aspetto cosa ne pensi? Nel senso che la Formula 1 ormai è sempre più priva di case ufficiali. Sono rimaste praticamente la Mercedes, la Ferrari e la Renault tramite l'Alpine. Invece vedo in altri campionati, ad esempio come sarà la 24 ore di Le Mans del 2023, dove ci saranno tantissime case ufficiali. Quindi secondo te la Formula 1 da questo punto di vista è in crisi? Cioè nel senso, i costruttori la stanno abbandonando, ne sono rimasti pochi, rispetto ad esempio all'era Schumacher, dove c'erano BMW, Mercedes, Ferrari, Toyota. Questo è un aspetto che un po' mi preoccupa, e vedo che dall'altra parte, invece, i costruttori cercano di investire, magari anche con budget limitati. Ma come hai toccato bene il tasto tu, secondo me, cioè la Formula 1 è sempre il massimo lapis del motorsport, poi quel campionato che c'è stato nel 2021 con questa lotta serrata fino alla fine, secondo me ha dato l'infa al campionato, e quindi secondo me la Formula 1 adesso a livello di sport per il pubblico, per attirare il pubblico, è ritornata adesso ad essere protagonista ancora. L'unica cosa è che per i costruttori, sai, i budget che devono spendere, sostanziare per una stagione sono, se non è poco. Adesso non so i dettagli, però anche ritornando a parlare di Honda, per loro quello che hanno investito in questi anni è una cosa che è esorbitante. Quello che hanno investito, l'immagine che hanno avuto è stata tanto, diciamo come immagine per i successi che hanno avuto, sono riusciti a ritornare a vincere il titolo dopo quasi 30 anni, però quello che spendono poi non giustifica, diciamo la spesa con quello che poi hanno su, indietro come immagine. Ok. E nelle categorie quelle Super GT, anche correndo in maniera ufficiale nel Super GT o anche negli altri campionati che dicevi, logicamente sono budget importanti che devono staziare, però non sono a livello della Formula 1, diciamo, ma secondo me è semplicemente assorirà il punto, la differenza per quello che, che non è sostenibile per tanti costruttori e poi siamo arrivati adesso in un momento che si deve passare da, come si diceva prima, dal motore alimentato all'elettrico, quindi i costruttori devono anche investire tanto di ricerca, su concetti nuovi e i budget che devono stanziare per la ricerca, per lo sviluppo, sono budget importanti per loro e quindi seguire, investire nel motosport e poi stanziare anche questi budget che sono poi quelli più importanti per mandare avanti e per far provvedere l'azienda non sono sostenibili. Secondo me è semplicemente solo questo il motivo. Certo, infatti secondo me siamo arrivati anche a delle spese tra virgolette esagerate, perché siamo arrivati a queste power unit turbo ibride che sì, è vero, ne fai praticamente ormai con 3-4 ci fanno una stagione di 22 gare, però io credo che ci sia un profondo, diciamo, controsenso e mi vado a spiegare. Facciamo dei motori che durano 8 gare, quindi con 3 motori ci fai quasi tutto l'anno, che però costano tantissimi soldi. Cioè siamo arrivati ad un punto in cui il motorsport vuole abbracciare l'elettrico, vuole andare verso la sostenibilità, poi però fa dei motori complicatissimi che costano tantissimi soldi, dove non puoi fare sviluppo. Quindi costringi un costruttore nuovo, ricordati anche la Honda, quando era entrata, gli insulti che prese da Alonso, perché chiaramente non si poteva lavorare troppo, e poi però questi prezzi esorbitanti che secondo me mettono anche in difficoltà il costruttore, che infatti cerca di guardare altrove. Secondo te questo discorso dei costi, di questi motori, come potrebbe essere un po' calmierato, un po' risolto, perché altrimenti i nuovi costruttori non arriveranno mai, con questi motori così complicati e dove non puoi lavorare. Ma sicuramente, sai, sotto il punto di vista tecnico non è facile dire, sai, certo, per me non è facile capire quanto veramente stanno spendendo nello sviluppo, nella ricerca. Poi un altro punto è che, sai, i gran premi in una stagione sono diventati secondo me troppi, troppi, perché non puoi iniziare a marzo e come quest'anno finire a Natale. C'è il personale di un team che devi mandare in giro per il mondo e sono spese esorbitanti, secondo me, insomma. Quindi, sai, avere, è come avere, per dirvi, un mondiale di calcio ogni anno, ogni due anni. Dopo non, stanche, capito? è bello avere anche di mezzo, per dirti, nel calcio c'è il mondiale ogni quattro anni, quando arriva l'anno del mondiale e c'è lì e tutti che vogliono vederlo, diciamo, in Formula 1 c'è dei momenti che c'è ai gari tutte le settimane che non ci sta neanche più dietro a vederle, diciamo. E quindi, ci sono tante cose dove si potrebbe lavorare per diminuire il discorso budget, secondo me, non solo sotto il punto di vista tecnico. Però, voglio dire, ai costruttori gli va bene così, quindi, sai, è difficile poi capire cosa c'è sotto, ma i diritti e tutti quelli che gli introiti che c'hanno andando in giro per il mondo di qua e di là in tutti questi paesi mirati. Però, semplicemente, insomma, bisognerebbe dare un bel taglio al budget, secondo me. Certo, addirittura leggevo qualche fonte che parlava di malori tra i meccanici dopo gli ultimi Gran Premi, quelli che ce ne sono stati tre di fila, tra Messico, Brasile e Qatar, quindi sicuramente meccanici messi sotto grandissimo stress. Ma tornando a parlare appunto della pista per quanto riguarda la Formula 1, abbiamo visto delle manovre un po' così al limite di Verstappen nelle ultime gare. Tu da pilota cosa ne pensi di come ha guidato Verstappen? Secondo me ha meritato, assolutamente. E delle manovre che ha fatto, ad esempio, in Arabia Saudita, sicuramente avrei visto le gare, si è parlato molto, secondo te ha esagerato o era l'unica arma che aveva? Perché aveva una macchina inferiore nelle ultime gare non poteva fare altrimenti, secondo te? Ma, a dirti la verità, l'unico Gran Premio che ho seguito dall'inizio e alla fine è stato il vittimo. Ok, a Abu Dhabi. A Abu Dhabi. Gli altri, ho visto degli highlight, Spezzoni, poi leggendo poi tutti gli articoli di quello che c'è stato lì che, sai, Verstappen è sempre stato messo sotto torchio poi sì, è vero. Un po' discusse così. Sai, lui è è all'apice della carriera, non si butta dentro o ti sposti o ti sposti, insomma, non è che come è stato anche visto lì che è stato da Cardiopalma l'ultimo Gran Premio lì ad Abu Dhabi ma non solo, già il primo, insomma. Sai, anche lì per dirti anche il primo giro lì con Hamilton dopo lui c'aveva dalla sua che anche se si toccavano si trattavano per aria era lui il campione quindi Hamilton doveva sempre tenere gli occhi sugli specchietti due non erano abbastanza, sai, con lui dietro così. Al limite però sai, uno come lui cosa c'è adesso? 22-23 anni? 24, sì, l'ha appena fatto i 24. Che team dietro che lavora tutto per lui riesce a fare la differenza in pista quindi è giusto che sia così insomma e poi è stato grazie a lui e poi a me Hamilton lo conosciamo tutti insomma quanto che fuoriclasse è grazie a questi due piloti insomma la Formula 1 veramente adesso ti dico che qua fino a qualche anno fa anche i bambini qua i giovani qua in Giappone che gli chiedevi ma quando diventerai grande dove vorresti correre quelli che corrono in Go-Kart per dirti e ti dicevano diciamo erano quasi rassegnati e ti dicevano vorrei correre nel Super Formula nel Super GT perché qua vedevano le gare qua adesso negli ultimi ti dico negli ultimi 2-3 anni gli chiedi e si sono riappassionati di Formula 1 capito? quindi questi il Vestappen che non alza il piede l'Hamilton e tutto il resto ha veramente creato ha portato benefici già dal motorsport diciamo già a partire dal kart capito? perché alla fine poi se non ci sono i giovani che entrano che sono invogliati a correre sai il futuro poi certo il futuro capito? quindi io l'ultimo Gran Premio onestamente sai io ti favo forse più Vestappen a livello per la Formula 1 anche perché sai Honda era l'ultimo anno era giusto che lasciava se lasciasse lasciando con il titolo sarebbe stato il massimo insomma per loro anche poveretti con tutto quello che hanno investito però come pilota voglio dire io conosco Hamilton già dai tempi del kart quando a fine anni 90 inizio anni 2000 quando io correvo nella super A diciamo nella categoria top del kart lui stava crescendo e si si vedeva nei fine settimana di gara lo vedevo si vedeva che era diverso dagli aete diciamo quindi lui adesso lasciamo stare che può piacere o non piacere fuori dal circuito diciamo per come per come insomma però come pilota è veramente super completo quindi ti favo per lui come pilota però per la Formula 1 per Vestappen quindi è stato bello che sia finito così insomma si beh credo sia stata una lotta entusiasmante poi anche lasciando l'ultimo giro certo un po' è stato quello che è stato perché è stato bello a livello di spettacolo però la gestione poteva essere fatta diversamente magari con una bandiera rossa comunque quest'anno anche per il Giappone c'è stato un nuovo pilota che è entrato in Formula 1 oppero Tsunoda su una Alfa Tau di motorizzata Honda c'è un po' una febbre Tsunoda in Giappone un pilota seguito come come l'hai vista ma eh si seguito poi sai è un personaggio un po' particolare lui hai capito piccolino sembra un manga si si è un po' sai non è che che sia per quelli per gli amanti del motorsport diciamo sì è stato seguito sì essendo che per noi già si conosceva quando correva nei kart che andava già fortino diciamo nei kart e si logicamente qua in Giappone tutti si si dipavano per lui febbre no per dirvi non è ancora se non è il personaggio che che ha fatto fermare il Giappone per vedere la Formula 1 diciamo però è stato buono anche perché insomma giovane ha fatto vedere degli sprazzi di di talento in certe in certe occasioni ha fatto logicamente anche errori che magari non ci si aspettava però ha fatto anche l'ultima gara ha fatto secondo me un garone insomma lì a quindi è buono insomma anche per il Giappone che che poi sia stato riconfermato per la per la nuova stagione assolutamente sì nella seconda parte di stagione è molto cresciuto dunque io direi un anno veramente trionfale per questa Honda in Formula 1 perché poi secondo me se lo meritavano perché secondo me Alonso qualche anno fa esagerò un po' quando disse tra l'altro a Suzuka a casa della Honda disse che avevano un motore da GP2 sulla McLaren e credo sia stato fatto un lavoro incredibile uno dei ritorni più più incredibili della storia della Formula 1 perché da dove erano poi da quando sono arrivati il Red Bull hanno avuto una crescita secondo me impressionante e questo è un modo di lavorare che a me piace tantissimo della Red Bull cioè credere in delle cose in cui magari altri non crederebbero e riescono a far crescere dei progetti ad esempio una cosa che in Ferrari io non vedo cioè in Ferrari dopo alcuni anni mi ricordo ad esempio la storia di Arriva Bene che dopo tre anni venne mandato via invece in Red Bull si insiste sempre con le stesse persone cioè Horner che è Team Principal da 16 anni e poi i risultati arrivano infatti volevo per chiudere un po' al discorso Formula 1 chiederti la situazione della Ferrari che sta lavorando tantissimo su questo 2022 se tu credi che il nuovo regolamento possa davvero portare un po' di sole in casa Ferrari dopo anni difficilissimi perché è un team che non vince da 15 anni e una Ferrari che non vince da 15 anni fa sempre notizia ma sai non è facile dire per me però l'unica cosa che si può sperare è che non anche proprio voluto però che abbiano imbroccato il progetto insomma esatto non diciamo neanche sai a livello sistematico che abbiano cercato sai perché logicamente il tempo a disposizione insomma essendo in giro logicamente avranno avuto anche il team a Maranello quello di progettazione però si spera che che abbiano interpretato bene le regole nuove e che abbiano avuto anche un po' di culo diciamo di fortuna di imbroccare perché sai non è a livello proprio come dicevi prima sistematico di avere una linea guida da seguire di andare in crescita non si è visto insomma sai alti e bassi vanno non vanno qualche gara hanno fatto vedere una buona crescita poi ci si aspettava magari la lotta per la vittoria o almeno di essere sempre a podio per per la successiva parte della stagione che poi invece sono ritornati giù quindi non lo so non lo so sai non sono sempre gente sai che sembrano un po' messi lì così un po' a caldo capito non proprio la gente la persona messa lì con la passione che ci abbia proprio che faccia vedere la passione che anche se si è fatto diciamo anche il mazzo capito nel motorsport magari anche dalle categorie inferiori come hai detto prima bene anche owner della Red Bull è uno che era titolare del team di Formula 3000 sì gli ultimi anni di Formula 3000 capito uno che sa come come deve essere messo a lavorare un meccanico per rendere al massimo un ingegnere cioè uno che ci ha toccato con mano capito dal basso come deve essere stato un team invece i nostri sono un po' messi in poli che non si sa dove arrivano e quindi come ti dicevo prima c'è solo da sperare secondo me che abbiano imbroccato il progetto sì sono d'accordo anche perché Binotto secondo me è un ottimo ingegnere ma come dici tu è stato messo magari in un ruolo che non è il suo poi magari l'anno prossimo ci tirano fuori la macchina da un secondo di vantaggio sulla concorrenza e veniamo smentiti però non si può mai dire comunque tornando un po' al discorso del Super GT la tua specialità l'anno prossimo Nissan porterà una macchina nuova mi hai già detto appunto che non mi vuoi dare troppi dettagli però ecco secondo me vedendo anche un po' i risultati degli ultimi anni tu hai vinto quattro volte il titolo negli ultimi anni la competitività di questa GT-R era un po' scesa vedendo anche il confronto con la nuova Honda la nuova Toyota che ha sostituito la Lexus ecco secondo te quanto è importante per la tua Nissan cambiare vettura a partire da un nuovo progetto e soprattutto questa GT-R cosa ha significato per te perché ci hai vinto praticamente tutto quello che c'era da vincere quindi un po' ti dispiace che vada in pensione sicuramente anche perché io sono arrivato in Nissan nel 2008 che è stato l'anno che la Nissan nel Super GT Classic 500 ha inserito la GT-R che è stato poi l'anno che avevano poi lanciato quella stradale la R35 quella che si vede adesso girare la strada diciamo e da allora sono cambiati i regolamenti drasticamente come si diceva prima nel 2014 quando c'è stato fatto l'accordo con quel DTM però è sempre rimasta la GT-R come base quindi quando nel regolamento del Super GT quando progetti una macchina da corsa non è che anche se da vedere sembrano quasi completamente diverse da quelle stradali quelle della classe 500 però devi stare dentro dei parametri aerodinamici della macchina stradale e la GT-R si è sempre cercati di andare soprattutto i tecnici quelli dell'aerodinamica di andare a trovare sempre i peli nel regolamento per cercare di migliorarla però più che altro noi si è migliorato in questi anni il problema è che soprattutto Toyota ogni tre anni qua quando poi venivano rivisti i regolamenti loro avevano la forza economica di lanciare un modello nuovo da strada per dirti nel 2020 poi hanno lanciato la Supra quella nuova stradale è stato proprio l'anno dei ritocchi dei regolamenti nel Super GT e quindi aerodinamicamente sono sempre stati efficienti al 100% quindi noi abbiamo avuto una handicap sotto quel punto di vista lì e con la nuova Z che verrà lanciata in questo 2022 e il modello stradale è stato lanciato in America l'anno scorso 2021 e verrà lanciato in Giappone in questo nuovo anno a livello aerodinamico anche perché le macchine del GT500 l'aerodinamica è molto importante avendo anche il fondo con i diffusori con i diffusori e anche lo scalino in mezzo come le formule diciamo quello di legno quindi l'aerodinamica fa di più che non fa la meccanica diciamo siamo a livelli quasi di Formula 1 diciamo con la Z nuova si è andati a fare questo passo in avanti e sicuramente sotto il punto di vista aerodinamico si sarà molto più più competitivi l'unica cosa è che i regolamenti del Super GT è come la Formula 1 i motori non derivano dalle macchine stradali per i tre costruttori sono tutti motori 2 litri turbo e Toyota e Honda essendo che loro sono impegnati sia nella Super Formula con lo stesso motore e Honda anche in Formula 1 loro sono cos'è 1.6 litri di motore in Formula 1 però la tecnologia è uguale capito dove vanno quello che trovano in Formula 1 o viceversa poi capito lo inseriscono durante la stagione o nelle stagioni successive noi se è migliorato è che loro hanno migliorato molto di più è quello che poi siamo andati cioè le posizioni poi in gridia e i risultati sono andati a cambiare diciamo quindi loro avendo questo questi progetti internazionali dalla Formula 1 per Honda Toyota essendo impegnata nelle vecchie in varie categorie per noi come Nissan non è facile Nissanismo è una realtà molto importante diciamo però voglio dire per Nissan c'è il loro impegno principale dei motori a scoppio diciamo è Super GT dove investono tutto diciamo e poi c'hanno la Formula E per la categoria elettrica lì che fanno il mondiale di Formula E questi sono i due campionati dove sono impegnati principalmente diciamo e quindi con la Z nuova siamo ottimisti sotto il punto di vista aerodinamico che si è fatto uno step in avanti adesso il punto sarà quello di andare anche a cercare di migliorare il motore quindi sarà importante per sarà diciamo decisivo e poi un'altra cosa è che nel Super GT nella classe 500 c'è la lotta tra i quattro costruttori di gomme io sono con Michelin già più di dieci anni che sono Michelin e c'è da andare per Michelin e venire qua in Giappone cercando di contrastare Bridgestone in casa che Bridgestone tutto quello che hanno l'energia che per il motosport è quello che possono investire è tutto investito qua nel Super GT e anche Michelin dopo che si sono ritirati dalla Formula 1 del 2006 quando erano in lotta con Bridgestone è l'unico campionato che loro possono misurarsi con Bridgestone logicamente fabbricando le gomme in Francia non è facile poi i tecnici fino a due anni fa venivano sempre a tutti i test anche le gare dalla Francia e si potevano seguire direttamente adesso è diventato tutto remoto diciamo con video non si riesce più neanche avere il meeting diretto con gli ingegneri da parlarsi diciamo quattro occhi e quindi sarà anche importante da capire si stanno dando da fare anche in Michelin perché insomma non è facile neanche sotto il punto di vista delle gomme comunque insomma sia a livello dalla parte nostra qua che in Michelin si stanno impegnando e quindi bisogna essere positivi diciamo sì la battaglia delle gomme credo sia un aspetto bellissimo cioè è bello vedere diversi casi anche lì combattere e io personalmente ho un'ultima curiosità abbiamo visto il DTM che prima era un campionato solo tedesco adesso purtroppo il DTM è diventato quello che è diventato un campionato GT3 non è di certo più quello di prima che però da campionato full German cioè solo tedesco si era un po' diciamo aperto verso altri paesi ecco il Super GT magari in futuro punterà non lo so in Europa è difficile però ci saranno anche gare all'estero in altri continenti tu come la vedi oppure rimarrà solo un discorso giapponese essendo tutte case giapponesi ci sarà un'apertura verso l'estero oppure non c'è speranza c'era sei quando era nata sta collaborazione con il DTM c'era c'era speranze e si erano riusciti anche poi andare a fare queste gare assieme si erano riusciti fare fatto una gara a fine 2019 al Fuji e poi si era andato noi con due macchine a Okinaim mi sembra tre macchine a Okinaim a fare tipo una demo diciamo però sembrava che fossero le basi poi per partire per fare qualcosa di più di concreto assieme poi il DTM è andato a finire così e quindi onestamente il Super GT che aveva investito tanto su questo progetto anche di collaborazione con il DTM se è stata una doccia fredda diciamo puoi vedere come è andato a finire per il DTM che hanno si sono i costruttori poi non ci hanno più creduto e hanno fatto un passo indietro e a livello Super GT credo per tornare a correre in Europa no come si poteva come poteva essere quando con la collaborazione con il DTM però per cercare di espandersi qua in Asia quello sì anche perché nel 2020 prima che poi ci fosse il problema con il Covid c'erano già in programma due gare fuori da Giappone Thailandia e a Brilham e poi a Sepan in Malesia quindi a livello qua asiatico sì c'è un progetto di espandersi poi adesso sai che la storia del virus è un po' fermato un po' insomma per quello quindi però dispiace perché col DTM c'era veramente la possibilità di che poteva nascere qualcosa di importante e niente quindi bisognerà andare avanti a vedersi a vedere le gare in televisione come si sperava soprattutto per i tifosi quelli che li da noi in Italia in Italia sicuramente e comunque ragazzi ringraziamo Ronny Guintarelli per questa sua intervista qui con Tutto Motori Web è stato incredibile sentirlo parlare raccontare anche perché secondo me è un personaggio che va coltivato perché in Giappone è un eroe lo sappiamo quattro titoli del Super GT il pilota più titolato del Super GT quindi ti ringraziamo veramente tanto Ronny per essere stato con noi e speriamo di risentirti presto magari anche durante la stagione per un nuovo aggiornamento sul tuo campionato su questa nuova Nissan Z che porterà speriamo dei grandi risultati ok è stato un piacere grazie a voi come vedi anche qua in Giappone abbiamo l'albero di Natale eh sì è notato prima io avevo il programma di ritornare in Italia dopo due anni avevo già il biglietto a Santo Stefano al 26 di ritornare poi con la variante nuova con le restrizioni che ci sono qua in Giappone che sono rigidissime a ritorno con le quarantene ho dovuto rinunciare e niente farò del mio meglio e per rendervi orgogliosi perfetto allora grazie Ronny e noi amici ci sentiamo nei prossimi giorni per le prossime interviste e buona giornata a tutti e grazie per essere stati con noi ciao grazie